Il mondo dello sport si interroga su quella che sarà la ripartenza dopo l'ulteriore chiusura arrivata nei giorni scorsi con il DPCM firmato dal governo. A fare il punto della situazione è il delegato della Filcam, Antonio Lallo. La ripartenza attualmente non come parte, anche perché abbiamo dei grossi problemi con i genitori, giustamente, con la paura che non mandano i propri figli in valenza. C'è anche da capirle, no? Perché non c'è una linea. Noi abbiamo fatto tutti i nostri controlli e abbiamo messo tutto in sicurezza, però, dalla chiusura. Stiamo lavorando molto sulle piattaforme per quanto riguarda i debilare che facciamo. E anche là vediamo che non c'è un'affluenza importante. Quando finirà questa benedetta pandemia, questo Covid, ci possa ritornare, non dico come prima, ma almeno a una percentuale molto importante, l'80-90%. L'interazione ha fatto dei programmi, ha filato dei programmi, però sono dei programmi che non possiamo tenere ancora in forte considerazione. Perché, ripeto, la voglia c'è tanta di fare, però le condizioni non ci garantiscono gli allenamenti.